Conoscere il peso dei nostri animali è veramente importante. Le tartarughe fanno parte dei cosiddetti giganti per cui valutare il loro peso non è sempre facile. Poche settimane fa ci siamo ingegnati con questo sistema particolare per cui siamo riusciti con un muletto a valutare esattamente il peso dei nostri individui. Passiamo da un peso minimo dei nostri giovani di 80-82 kg al peso massimo dei nostri individui più adulti dove bulbo è arrivato a pesare più di 220 kg mentre la femmina più grande arriva a superare i 180 kg. Sono pesi davvero importanti. In realtà sapere il peso è un buon indicatore anche dello stato di salute dei nostri animali. Noi ci stiamo occupando ormai da anni della salvaguardia delle specie non solo in ambiente controllato ma anche nei loro luoghi d'origine e stiamo cercando di aiutare anche le tartarughe soprattutto quelle presenti sull'isola di Curiose e nell'orto botanico di Maé di capire qualcosa in più sul loro stato di salute. Non solo in tartarughe che pesano quintali è complesso valutare il loro peso ma anche è molto complicato valutare quello che è il loro volume corporeo. Ogni tartaruga ha delle forme diverse, ogni carapace ha delle forme diverse per cui in realtà è molto importante l'utilizzo della tecnologia. Stiamo mettendo a punto un programma in 3D che con un semplice video di pochi secondi fatto sulla tartaruga è in grado di valutare esattamente il volume occupato dal corpo di quella esatta tartaruga e questo è molto utile perché ci consente di andare ad individuare esattamente quelli che sono i parametri di riferimento di questa specie. Ecco questi parametri sono molto importanti perché ci aiutano a tenere monitorata una popolazione di tartarughe nel corso degli anni. Sappiamo che sono animali che vivono a lungo, possono vivere molto più dei 100 anni quindi anche avere un indice di questo tipo ci aiuta un po' a capire quelle che sono le dinamiche diciamo così della loro lunga vita.